Comincia da un po' lì, in voi non si sta una propria. Sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della violenza sulle donne attraverso momenti di riflessione e condivisione. Questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata questa mattina presso l'Istituto Salvemini di Battipaglia in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A spiegarne le finalità la dirigente scolastica Anna Maria Leone. L'input che noi abbiamo dato stamattina nella nostra scuola anche se forte, però a mio avviso e avviso dei miei docenti era necessario, perché è importante che si formi già nel ragazzo adolescente questa coscienza di uguaglianza e di rispetto della donna e di rispetto dell'individuo in genere, perché la violenza delle donne è cosa gravissima, ma è altrettanto grave fare violenza anche su un altro individuo su un altro essere umano. E quindi sta a noi, agenzie educative, far nascere negli alunni, nei ragazzi questa coscienza fondamentale per una buona riuscita della vita dell'individuo e del rapporto che l'individuo ha con gli altri ragazzi, con la società, con il mondo intero. Ultimamente questo argomento è diventato fondamentale perché si sentono molti casi di violenza sulle donne gravi. Prevenire, questo è il nostro impegno. E anche di sensibilizzare le ragazze a denunciare la violenza perché molte volte la vittima tace, ha paura, ha vergogna, pensa di essere lei, insomma, di aver scatenato la violenza e di aver provocato, questo è il termine che più viene usato. E quindi il nostro intento è quello di fare prevenzione. Lo faremo ogni anno, lo faremo durante il corso dell'anno scolastico, molte iniziative vengono fatte dai professori, anche l'anno scorso sono state prese delle iniziative validissime e io sono contenta di questo e appoggerò sempre qualsiasi iniziativa del genere.